Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il rischio ero geologico è una cosa complicatissima, come avete avuto modo, di vedere in televisione, perché non è che mi devo inventare cose, in particolare, di chi si dipende da una distanza di pochissimo tempo, l'uno dall'altro, ovviamente l'uomo non riesce a me, non di caso, ma in realtà è sul lato della prevenzione. La prevenzione è una cosa che non fa rumore, si vede molto poco. Però è quella che, a parte di due cose fondamentali, a parte di un'evento... Grazie. 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 Grazie.